Mi capitava talvolta, mentre mi aggiravo per i solchi di quel paesino, di vederlo scivolare per gli stessi vicoli. Si reggeva il cappello con una mano e nell'altra teneva il bastone, che accompagnava la musica del suo passo, rintocchi come di una campana lontana. Sembrava ingoiare sole ed ombra con il suo passo e rivestirsi dei colori, ora ombrosi, ora accecanti. Lo seguivo come si pedina da lontano, con rispetto ed emozione, il campione, del quale da bambino tenevi la fotografia sopra il letto, che seguivi alla televisione e che ora, stanco e meno elastico, ti capita di sfiorare per strada. E allora cambi direzione, per un poco lo segui a distanza, mentre il cuore batte, anzi no, vibra, vibra di sentimentalismo, ma non per lui, quanto piuttosto per te, per ciò che eri, per il tempo che hai passato, per i ricordi che a quel viso restano appiccicati, gli amici con i quali hai guardato quella partita o la ragazza della quale eri innamorato allora e la cui immagine stava a fianco alla sua. Lei, seduta sorridente in mezzo al prato, girata un po' di profilo, gli occhi illuminati dal tuo riflesso. Adesso non sai più chi è, né perché allora non potessi fare a meno di lei. Lui, tonico, palla al piede, la strada di una carriera sfolgorante spianata davanti. E queste emozioni sembrano aver ritrovato all'improvviso una falla nella diga che le tratteneva e ti sommergono, e per lui invece solo delusione. Che si è invecchiato non lo immaginavi, i campioni muoiono giovani, credevi, e invece eccolo lì, cinque metri avanti a te. E tu ne studi movimenti, le forme afflosciate e ripensi, ma non ripensi neppure, inventi, scivoli alla deriva in un mare dove la ragione è affondata per pochi minuti, d'accordo, ma è affondata in un tifone di sentimenti. E poi smetti di seguirlo, perché ti chiedi a che cosa serva e riprendi la tua vita e la sera a casa dici, indovinate che ho visto oggi. E ti rispondono chi, e non provano nemmeno a indovinare, e tu insisti, non ci riuscireste mai, e loro non ci vogliono neanche tentare. E poi quando lo dici, c'è sempre qualcuno che ti chiede, ma chi è? E tu allora non sai se sentirti vecchio o stupido, o solo un poco triste, perché non ti sono stati a sentire. Come quella volta che in treno la ragazzina seduta davanti a te, sfogliando una rivista e fermandosi su una fotografia in bianco e nero, sgranata, ha chiesto a sua madre, chi è questo qui che si chiama Rachel? Così, con l'accento sulla E, Rachel, e ti è sembrato di vederti cadere addosso il tempo, perché tu quello lì te lo ricordi, anche se eri un bambino te lo ricordi, e questa qui che è già adolescente non sa neppure pronunciare il suo nome, e ripensi al tuo calciatore, e luggia vela lo sguardo, mentre tua moglie finisce la minestra, ma poi sorridi, mentre inizi a spiegare tutto di lui, perché sai che loro non possono avere i tuoi stessi ricordi, e allora sorridi, ma dopo poche parole lasci cadere tutto, perché è inutile. Così smetti di parlare senza nemmeno aver finito la frase, tanto nessuno ti chiede di concluderla, e poi poco dopo, il silenzio, e qualcun altro riprenderà a parlare, di cose sue, e nessuno rammenterà neppure che tu hai chiesto, indovinate che ho visto oggi, e tu chiuderai per sempre l'episodio nel primo sonno. Magari.